Sarà più facile nel capoluogo di regione mettere nuovi negozi in edifici ricostruiti. Ci sarà insomma una maggiore flessibilità da parte del Comune dell'Aquila nel concedere delle variazioni di destinazione d'uso a edifici ricostruiti o ristrutturati, in modo così da poterli riconvertire per scopi sociali o commerciali. Va in questa direzione infatti una recente delibera votata dall'Aggiunta Comunale dell'Aquila e che presto approderà in Consiglio Comunale. È stata proposta dall'assessore all'urbanistica della Lega Francesco De Santis. Una delibera che sostanzialmente da un punto di vista tecnico amplia soltanto le possibilità garantite già da una legge regionale. Non si tratta però di un liberi tutti, un'occasione però questa considerata importante anche per rilanciare l'economia cittadina. Il recupero dei vani e dei locali è consentito ad alcune condizioni a proposito di vincoli, che siano conformi ai titoli edilizi rilasciati, che non ci siano accertamenti per opere abusive, che siano collocati all'interno di edifici serviti da opere primarie di urbanizzazione, che siano rispettate insomma tutte le norme igienico-sanitarie e le altre normative antisismica e in tema di sicurezza.